Dopo un lungo tira e molla Fabrizio Vallo Scuola rientra dalla porta principale del municipio di Silvia e sarà ancora una volta il vice sindaco. Sì, diciamo dopo l'azzeramento di giunta c'è stato un momento di confronto, anche se è un po' lungo, in un certo senso mi fa piacere rientrare con le nuove responsabilità. Fa piacere perché comunque ci sono degli obiettivi importanti da qui al prossimo futuro. Sicuramente da qui al prossimo futuro si parlerà molto di PNRR. Il sindaco mi ha voluto offrire insieme a tutti quanti i coordinatori degli altri partiti questa responsabilità di coordinamento del tavolo politico. Anche perché nell'ultimo periodo, nel passato, ha portato a termine di importanti progetti anche una stima per questo. Io penso che quello sia stato il mio biglietto da visita, anche se non sono l'unico faudore di quel successo. Ci sono altri partner che hanno contribuito. Però diciamo che ha avuto un ruolo importante e penso che nella decisione del sindaco di darmi questo importante incarico ci sia anche quel fattore. Ecco, adesso c'è la possibilità di arrivare però a fine mandato più serenamente e arrivare ai primi risultati anche per i cittadini. Ma io al sindaco dico stiamo amministrando, amministriamo, c'è un presente da portare avanti e un futuro da programmare. Per il futuro ci sarà tempo, per il presente diamoci una mano. Col sindaco adesso gli animi come sono? Ma io al sindaco ho chiesto una collaborazione leale. Io dalla mia parte la farò, come ho sempre fatto in questi tre anni, e continuerò a farlo. E sicuramente penso che a questo punto anche lui sarà leale con me. Adesso arriverà la firma, le deleghe sono quelle che aveva già e in più c'è questa del PNRR. Sì, diciamo che rientro nella posizione precedente con tutte le mie deleghe e la figura di vice sindaco. In più questo incarico è importantissimo. Silvi, che cosa ha bisogno da cui può prendere risorse dal PNRR? Ha bisogno di tanti progetti, Silvi. Abbiamo bisogno di sviluppare strade, parcheggi e molto sulla transazione ecologica che adesso è molto di moda. E io penso che questa sia la chiave di tutto quanto. Anche perché poi arriva l'estate e l'estate sappiamo che per Silvi è una cosa importantissima. Diciamo che oltretutto siamo un paese turistico e quindi è importante. Quindi anche l'aspetto del paese attuale bisogna portarlo avanti, delle opere che sono iniziate bisogna cercare di finirle nel più breve tempo possibile e migliore possibile.